In occasione della giornata nazionale per le donazioni di trapianti di organi e tessuti, l'Aido Comunale di Bari, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti dell'ASL Bari, ha organizzato in Piazza Diaz una mattinata di informazione e promozione della cultura del dono. Noi abbiamo soprattutto questa come mission, come Aido, perché purtroppo la Puglia necessita di un incoraggiamento dal punto di vista delle adessioni alla donazione di organi. quanto è l'ultima in Italia percentualmente come donazione per milioni di abitanti. È importante conoscere, l'ignoranza genera paura. Fondamentale per noi è sensibilizzare la popolazione a quella che è un'opportunità che la legge del 91 del 99 dà a ciascun cittadino di decidere in vita quello che venga fatto del proprio corpo per la donazione degli organi dopo la morte. Dal 3 aprile inoltre è possibile, grazie alla nuova versione dell'app Digital Aido, esprimere digitalmente anche con la carta di identità elettronica la manifestazione di volontà favorevole alla donazione post-morte di organi. Giorni fa in Senato abbiamo organizzato un incontro per promuovere l'app. L'app che in sostanza che cosa trasferisce ai cittadini? La possibilità di poter donare. Ecco, l'Aido ha il merito, e con i suoi 50 anni oggi lo dimostra, di essere capace di sensibilizzare e informare. Però bisogna fare tanto di più perché in Puglia siamo un po' indietro nella sensibilizzazione, nell'informazione. Ecco perché l'azione di oggi deve contribuire a diffondere questo messaggio che, ripeto, può riguardare tutti quanti. Non ce lo dimentichiamo mai.